Azione! Veniamo da casa! Dobbiamo sparare per venire qua dentro! È una cosa nuova, è una cosa bella sicuramente che rimarrà in ognuno di noi. Chi sta in galera più di tutti gli altri ha bisogno di essere arricchito a livello spirituale. Non ci sarà pace se non ci sarà giustizia. E non ci sarà giustizia se non ci sarà vendetta. Guarda, guarda, guarda! Se gli altri ci dicono che siamo gli artisti, che il nostro è un mondo finto, bisogna capire che è finto anche quello degli altri. È un mondo costruito con tanti mezzi. Però è sempre frutto di un'idea. Voglio vedere se non capisci il comando. Secondo me ora si prende paura e torna dentro. E se non torna dentro da solo, ce lo rimane le tracci del tutto! Immaginate almeno qualcosa! Immaginate! 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 Grazie a tutti.